Una mostra semplice, una mostra che ripercore un po' quella che è la storia della nostra società. È logico che ci sono delle mancanze, nel senso che non è una mostra fotografica completissima, però abbiamo voluto toccare tutti gli anni più importanti, le situazioni, le vicissitudini e gli aspetti senz'altro positivi di questa storia che dura da cento anni. Quello che è stato la mia attività sportiva, mi fa piacere che sia immortalata in qualche foto, però è logico che la vera storia l'hanno fatta personaggi che sono ricordati oggi e che chi vuol venire a vederli sono qui con testimonianze anche scritte e che approfitto anche per ringraziare sia i familiari sia tutti gli amici che hanno contribuito a portare un contributo che ha fatto sì che questa mostra sia completa, sia in un certo senso abbastanza esaudiente per quanto riguarda i periodi che l'hanno caratterizzata. Sarà visibile tutti i giorni dalle 9.30 a mezzogiorno e 30 fino a venerdì e il pomeriggio dalle 15.30 fino alle 19.00.